in questo video farò una recensione flash ma anche molto completa nel senso recensione veloce ma completa di tutto sono qui per dare una recensione definitiva di veri allora innanzitutto io non mi trovo mai senza segnale e mai senza una velocità buona ce l'ho sempre buona e ce l'ho sempre segnale poi numero due questa scheda telefonica siete liberi di metterla dove volete in un qualsiasi telefono in un qualsiasi router in una qualsiasi penna usb che ti dà internet ci sono le penne usb che dentro ce l'aspirare o dalla scheda ce la metti dentro e funziona non so se lo sapevate in qualunque dispositivo di comunicazione telecomunicativo ce la puoi mettere alla sim poi è una cosa bella l'ho testato su di me e funziona davvero se voi non ricaricate la sim per dieci mesi non succede assolutamente niente caricate l'undicesimo ci avete di nuovo l'offerta attiva senza problemi se finite i giga c'è la possibilità di riparti cos'è riparti la possibilità che non da quasi nessun operatore mi pare o mobile mi pare pure la da non mi ricordo bene se si finiscono i giga aprite l'app prima andate a ricaricare il prezzo di avere offerta tipo se voi avete un'offerta da 9,99 euro andate a ricaricare come sempre 10 euro quando finite internet ma non funzionerà cosa fare aprire l'applicazione vi si troverà una pagina con scritto i giga finiti però al fianco sta scritto riparti cliccate riparti e riprendete a usare internet senza aspettare il mese successivo se per esempio voi avete il giorno di rinuovo ce l'avete il 10 e li finite il 25 il rinuovo dopo averlo fatto in reparti dopo averlo seguito dopo che avete finito internet però ricaricate 10 euro l'offerta cliccate su reparti sull'applicazione e ricominciate ma quando avete ricaricato quando avete finito internet bene ve lo spiego di nuovo in modo semplice internet è finito ok vi recate in un qualsiasi locale dove si può fare la ricarica per immobile ok ora che avete fatto la ricarica aprite l'applicazione si aprirà la pagina home con scritto giga 0 a fianco c'è reparti cliccato là e poi cliccato continua i giga ricominceranno ad essere utilizzabili da capo al 100% se avete un'offerta da 300 giga 220 quello che sia ricominciano di nuovo da tutti i giga di nuovo a disposizione tutto quanto a disposizione praticamente è un rinuovo dell'offerta anticipata praticamente se voi rinnovate l'offerta ogni 10 però lo finite il 25 se fate questa cosa che vi ho detto e riparte il 25 voi il rinuovo non ce l'avete più ogni 10 ma si sposta su ogni 25 cioè praticamente si appoggia sia a 3 sia wind comunque sia che la bcs una separata non può avere né 3 né wind separate ma tutto insieme comunque sia avete un segno direzionato di 2 operatori mesi insieme quindi comunque sia più copertura perché è concentrata fra due operatori simultaneamente wind e 3 che adesso si chiama wind 3 siete liberi di metterlo in qualsiasi dispositivo quindi già anche questo vi fa dire cavolo queste operatori possono metterlo dove voglio senza essere vincolato quel vincolo non lo mettere lì non lo mettere assolutamente da abolire questo mi rappresenta che un utente usa il vostro prodotto ed essere pure vincolato come usarlo cioè che non è come usarlo chissà che cosa fa ma vincolarlo proprio dove metterlo cioè c'è un router a casa 4g magari voi non sapete questa cosa e vi si blocca la sim con veri mobile invece no la potete mettere dove volete la scheda telefonica potete fare il rinuovo anticipato dell'offerta il reparto l'ho già spiegato potete ricaricare quando vi pare pure dopo 10 mesi chiaramente se poi passano 12 mesi perdete sim e tutto perché scade dopo un anno senza ricarica è normale è normale tutti gli operatori e poi oltretutto anche se c'è il k 30 arrivate tranquillamente 34, 35, 38 mega uno direbbe non male però anche quando uno va a 34, 35 cambia poco cambia poco allora già che voi andate 35 mega anzi di 6 mega al secondo di una 30 mega normale voi andate a ben 7 mega al secondo che in 2 secondi anzi ad andare a scaricare 2 secondi anzi ad andare a scaricare 12 mega ne andate a scaricare ben 14 che poi in 4 secondi guadagnate 4 mega in più sembra poco ma comunque ci metti qual minuto in meno a scaricare un file sembra poco però fa tanto considerando che l'upload di una 100 mega arriva a 20 mega questa ti arriva a 30 e comunque arriva comunque a 35 c'è qual mega in più un upload quindi 7 mega di double 7 mega di upload massimi io so una volta che ho scaricato pure 8, 9, 10 mega al secondo che oscillava 6, 10, 8 rimane capito che la velocità si alza e poi si rabbassa ma comunque sia è sempre un male che questo rende instabile la linea specialmente quando giochi online ma comunque va sempre comunque bene capito però questo non è un male è un male in positivo perché ce n'è senso è un bene perché comunque supera la soglia in qualche attimo e poi si rabbassa e si rialza però questi sbalzi però visto che non è come gli operatori non crea nessun problema a caricare file e tutto cioè va tranquillo per davvero poi preciso a dire il ping è sempre buono il gitter è ottimo ovunque vado che sia l'ascensore che sia un ospedale sotto terra che sia un altro piano che ci sia un muro doppio internet è il segnale ce l'ho sempre e comunque io cioè non mi sono mai trovato senza linea telefonica solo dove vado in una zona certe volte sì certe volte no però tutti gli operatori che ho provato vado a Fonetiem in quella zona non prende mai invece un veri mobile qualche volta sì qualche volta no però questo dimostra che è veri comunque essere due operatori fusi essere due segnali messi insieme che creano un'onda di segnalo ancora un po' più lontana diciamo concentrata fusa concentrata che va in più profondità e di più è già qualcosa di più concreto come affendibilità per non parlare del fatto che i servizi a pagamento sono tutti bloccati sms premio tutto bloccato allora 10 allode st'operatore velocità più che buona supera anche la storia di 30 Mb uno dice è a 30 Mb no 30 Mb è 30 Mb 35 37 c'è una grande differenza per dirvi quando tipo c'è l'attimo che va a 39 quasi 40 quell'attimo anzi di scaricare 6 Mb per secondo ne scaricate 10 quindi in 2 secondi si hanno scaricato 18 16 Mb se fa così anzi di 12 sembra poco la differenza ma fidatevi è tanto e poi è affidabile è affidabile l'operatore è assolutamente affidabile niente sovrappezza ricarichi quando vuoi non è come gli altri che si è vincolato a ricaricare ricomincia a usare l'offerta quando ti pare la puoi mettere ovunque io non vedo vincoli io avveri mobile l'unico vincolo magari di 30 Mb che a me sinceramente non mi dà fastidio vedo pure 8k 4k va tranquillo e sinceramente spero che esca un'offerta con una sim solo che a meno devi avere piaceno 2 a meno un'offerta nuova con 400 giga o 500 sarebbe veramente perfetto così uso magari 350 per scaricare le altre 50 restanti per navigare cioè comunque giustamente se io scarico così tante poi chiaramente sto parlando delle cose di tutto il mese cioè adesso io praticamente ho una roba più di 100 giga settimana io ho fatto io ho sbagliato tutto ragazzi non è praticamente quello che ho detto uno con con 300 giga io non ho 10 giga al giorno e c'ho di più io praticamente ho 14 giga 600 mega al peso per giù bisogna fare la divisione 300 giga per 3 e un mese sono 30 giorni 10 20 30 giorni ogni 10 giorni fino alla fine del mese fino al rinno comunque io ho più di 100 giga se poi lo mettiamo a scherare a settimilare esce una roba come 120 130 giga a settimana che non è male però se poi esce un'offerta con 400 esce una somma come 150 160 la stima perfetta non ve la so dire comunque vi so dire soltanto che sta cosa è veramente buona ragazzi vi ho detto tutto vi ho detto tutto non ho mai avuto dubbi su veri quando uscivo la pubblicità 5 euro e 99 4 euro e 99 scusatemi per i primi 20.000 clienti una cosa del genere so per giù erano 20.000 per i primi clienti questa offerta 4 euro e 99 30 giga e ho detto giustamente cosa me ne devo fare ma cosa me ne devo fare di sta offerta 30 giga e all'epoca avevo due schede da 100 giustamente da venne 30 e da venne 100 in una sola c'è la differenza di tre volte e passo di più giustamente dicevo però ho iniziato a dare l'importanza quando è uscita l'offerta famosa all'epoca era una delle migliori anzi era la migliore secondo me 7 euro e 99 si chiamava 7,99 flash 200 giga a 7 euro e 99 credetemi che all'epoca c'era l'epoca qualche annetto fa era un'offerta con i controcavoli tu all'epoca se volivi 200 giga devi spendere 20 euro al mese questa invece è 7 euro e 99 se tu comunque la spendi 20 euro al mese ne avevi 400 c'è capito? tanta roba ah beh comunque sia stabilità affedibilità si 100% qualità velocità e stabilità 100% velocità e stabilità li do si 74 e 75 per cento perché non va sempre 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 a 30 mega però ricordo ragazzi già con 14 15 mega pieni già il 4k si vede ve lo sicuro con un upload se supera l'upload pure 4 mega 3 mega e mezzo 2 mega e mezzo è possibile vedere il 4k vi ho detto tutto e sinceramente io non ho mai avuto brutte sorprese da parte da veri ho avuto qualche difetto per colpa di gente dispettosa tempo fa tempo tempo fa però sto tenendo ancora sotto controllo il cellulare di mio per vedere se c'è qualcosa di spetto però francamente veri a me mi ha sempre soddisfatto perché non si trova tutti i giorni trovare 300 giga minuti sms limitata 9,99 euro gli altri ti ridanno c'è Iliad Iliad vi cerca 12,99 euro 13,99 euro non mi ricordo 300 giga senza minuti senza sms poi c'è poste mobile la stessa cosa però costa 8,99 euro 300 giga ma senza minuti senza sms se voi avete un'offerta così senza richiamate senza messaggi se volete andare sul sicuro fatevi bloccare i messaggi e le chiamate perché di default non c'è il blocco che succede se voi chiamate semplicemente vi addebitano fino a 0 euro allora se voi dovete ottenere un'offerta intelligentemente uno che fa se voi avete una tariffa senza minuti sms però avete solo internet però in minuti sms non c'è blocco va su credito cosa fare o bloccare come ho detto oppure prendere intelligentemente un modem 4g e mettere la scheda lì dentro in modo tale che anche se siete magari non ci pensate se siete sopra pensiero comunque se non potete ne chiamare ne messaggiare perché la sim sta direttamente nel router in questo modo avete una internet a casa di 300 giga che comunque non è male oltretutto poiché altro io sto aspettando un'offerta che raggiunge i 400 giga precisi non 350 io voglio i 400 giga che praticamente i 400 giga sarebbero sarebbero buoni bello io adesso sto spendendo allora questo mese sono stato soltanto con una io ce ne ho due da 300 ho 600 giga 20 euro al mese e ho spiegato ho spiegato a Gianluca Gianluca che c'è il canale familiare gli ho spiegato ma tu lo sai che lui c'ha l'offerta infinito ci sono sia team sia che vodafone sia team insieme a win3 che c'hanno l'infinito e non preciso a dire nel suo numero e nell'operatore che c'ha però ho detto ma lo sai che tu se raggiungi una certa soglia e il massimo è di 500 giga l'operatore o ti blocca la linea o ti rallenta io pago 20 euro al mese per avere 600 c'è lui che deve avere senza limiti io c'ho più internet di lui che va da giga e lui che non dovrebbe andare a giga c'ha più internet inferiore al mio c'è lui che c'ha internet illimitato così dicono quali dell'offerta c'ha meno internet di me ce ne rendiamoci conto bello ecco la bussita comunque uno dice magari fissazione controllare tutti i giorni magari no ragazzi credetemi è importante specialmente questo allora se uno non ci bada non usa tanto internet fuori casa e c'è il wifi a casa chi se ne frega ok chi se ne frega magari uno controlla per vedere se tu ti arregola la promozione però per come me non hai il wifi fisso a casa vedere se non superi il tetto giornaliero nel senso tu c'hai 300 giga tu c'hai una soglia precisa al giorno ogni giorno da non superare se tu la superi la soglia del giorno dopo sarà di meno perché comunque hai consumato di più un quel giorno e di conseguenza c'è meno un altro giorno dopo quando uno non c'è il wifi a casa credetemi non è da scemi chiamare l'operatore tutti i giorni per vedere quanto si ha sulla promozione è molto importante anche che c'è i reparti perché comunque ti va a risparmiare con la ricarica in più chi ti può risparmiare perché magari se ti va a capitare in un giorno scomodo che non puoi neanche ricaricare fidatevi che è brutto perché il rimanere è proprio senza internet però io considero che c'è avveri mobili che ci hanno fatto nei 300 un mese ricaricatelo 20 euro per tutti gli altri 10 come niente come sempre perché se siete un giorno che non potete ricaricare i soldi stanno già lì se tu vuoi finiti i giga i soldi stanno già lì infatti le parti niente di più niente di meno il video finisce qui ci vediamo al prossimo video ciao